Ciao a tutti e a tutti, oggi è il San Martino dei poveri e siamo qua insieme a tante belle persone ad ascoltare Francesco Maria Martorano che ci racconta le tradizioni siciliane. Perché l'abbiamo fatto per San Martino questo concetto? Dici picchi biscotti suppone uno scato chi lo sa. Sì, anche, però ci sono altre motivazioni. Non so se conoscete la storia. La storia vuole che San Martino, che era nato in Ungheria nel 315 d.C., quindi a Passai, è una storia che accompagna tutta la nostra cultura occidentale, tant'è che San Martino è una figura venerata e amata in tutta Europa. Questo picciotto, questo Martino, era un soldato romano che dopo aver girato, assegnato da soldato romano e cresciuto in Italia proprio via, fu assegnato a un contingente francese. Lì avvenne fuori dalla città di Amiens l'episodio che ha reso, ha aperto, diciamo, alla conversione del soldato romano al cristianesimo ed è l'episodio centrale di questa storia per cui oggi siamo qua. Fuori dalle porte della città c'era un fritto che si incontrava, carevano a Cittimonte. Il soldato Martino, tutto bardato, a cavallo ben coperto da legionario qual'era, incontra un poverietto. Buono ciparsi che ne esce a spada, si taglia il mantello e copre, e offre, scusate, metà del mantello al mendicato. Che è successo? Allora, in quel momento si apre il cielo e spunto sul. Quella è la motivazione per cui lo spirito religioso popolare lega a questo episodio quella che ogni anno, intorno all'11 di novembre, giornata in cui ricade la festività di San Martino, che peraltro non è un giorno casuale, è il giorno dei suoi funerali, quindi non è una cosa inventata. Grazie, oggi sappiamo dalla scienza all'anticiclone delle azzorre, ci sono un paio di giorni di temperatura più calda. La famosa estate di San Martino. Tutti abbiamo vissuto l'estate di San Martino, abbiamo sentito parlare da sempre, anche quest'anno l'abbiamo avuto, perché se ci pensate, tre giorni fa non era così nei cilidini. E invece, ora questa estate di San Martino, chiaramente ha segnato nel centro di novembre, ha ispirato poeti, artisti e segnava tutta la vita dell'agricoltura vitivinicola. Tant'è che grazie anche un po' a questo rialzo della temperatura, il vino che è il vino nuovo che era in prossimità di farsi, si faceva. A San Martino ogni mostro diventa vino. Da qui la tradizione di avere il festeggiamento di San Martino con il vino nuovo o con il moscato, che è vino speziato, vino vecchio speziato, per festeggiare il vino nuovo. Ma comunque siete vieni. Poi ad ogni tradizione era legata una cultura chiaramente culinaria che si andava a sposare a questo accompagnare il vino. E in Sicilia noi abbiamo i biscotti di San Martino, che per me sono una delle cose più buone, migliori. Siccome questa storia magari non la conoscevate, ci farse bello raccontare. Quindi fate un applauso a Gretano Motisi che mi ha chiesto di raccontarlo.